Il primo appuntamento dell'anno con la nostra icona del design è dedicato alla lampada Pistillino. Disegnata dallo studio Tetrarch e realizzata da Valenti a partire dal 1969, la Pistillino e la variante più grande Pistillo è sicuramente una delle lampade più iconiche del XX secolo. Unica per il grande effetto che è in grado di dare la forma è una lampada che può essere al contempo da tavolo, da parete e da soffitto. È anche tra le poche molto belle da spente. La Pistillino è costituita da una lampada cronata al centro e da una serie di braccia riflettenti che irradiano la luce nello spazio circostante. Sia la forma che in nome sono presi in prestito dal regno naturale. Il Pistillo infatti è l'organo riproduttivo femminile che si trova nel cuore dei fiori. In natura racchiude il polline che sarà poi sparso dagli insetti o dal vento. Tornando alla nostra lampada, le sfere sono realizzate in ABS cromato e dorato. L'elevato potere riflettente diffonde la luce emessa dalla lampadina centrale. Effetto moltiplicato se la protagonista del nostro podcast odierno è poggiata su una superficie a specchio oppure su un tavolo di vetro. Nei nostri magazzini ne è appena arrivata una coppia che proponiamo in vendita come al solito sul nostro sito www.dimanoinmano.it e anche nel nostro negozio di Cambiago.